Si erano già impossessati di vario materiale ferroso quando sono stati intercettati dalla polizia ed arrestati. Loro sono i gelesi Salvatore Gravagna, 34 anni, ed Alessandro Piscopo, di 41. Il raid furtivo era stato commesso all'interno dell'azienda agroalimentare Zappalà, in Contrada Burgio, nelle campagne di Butera. I poliziotti sono intervenuti grazie ad una telefonata anonima giunta al 113. I due malviventi, dopo essere stati scoperti, hanno tentato di fuggire, ma sono stati raggiunti ed ammalettati. Gravagna e Piscopo erano riusciti ad entrare nell'azienda dopo aver forzato una catena posta chiusura del cancello scorrevole. La polizia, al termine dell'operazione, ha sequestrato il mezzo e gli arnesi utilizzati per lo scasso, mentre la refurtiva, per un valore di circa 5.000 euro, è stata riconsegnata al legittimo proprietario. Dopo le formalità di rito, il Pubblico Ministero, la Rase Cacini, per i due indagati, ha disposto il trasferimento in carcere. E sempre la polizia, del locale commissariato, ha deferito una gelese di 53 anni perché non ha ottemperato per circa due mesi alla comunicazione giornaliera dell'elenco degli arroggiati nell'albergo da lui gestito. I poliziotti hanno accertato che l'albergatore, giustificandosi per presunti motivi tecnici, non aveva rispettato l'obbligo, non consentendo in tal modo il monitoraggio degli arroggiati per fini di polizia, come previsto dalla legge. E i carabinieri della sezione radiomobile del reparto territoriale di Gela hanno arrestato Carmelo Meroni, 30 anni, pluripregiudicato gelese, per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Durante un controllo, i militari hanno fermato l'uomo alla guida di una lancia Ypsron sprovvista di copertura assicurativa. Sorvegliato speciale, con obbligo di soggiorno, è stato colto alla guida in compagnia di un altro pregiudicato locale. Meroni adesso si trova ai domiciliari.